Crisi Ucraina, OMS Europa, diritto alla salute e all'accesso ai servizi deve sempre essere tutelato. Cosmesi, il comparto, ha superato la crisi Covid, preoccupazione per i rincari delle materie prime. Covid è massia moderna per bimbi 6-11 anni e a booster con Pfizer per over 12. Eguaglia rinnova cariche direttive. Enrique Auserman confermato alla Presidenza. Ben ritrovati con una nuova edizione del Tg di Federpharma. Continuano i bombardamenti russi sul territorio ucraino e aumentano i problemi per la popolazione. Oltre al rischio che questa situazione diventi in breve una catastrofe umanitaria, la preoccupazione per l'OMS è garantire assistenza sanitaria salvaguardando soprattutto i più fragili. Gli ospedali a Kiev sono già in difficoltà, ma la protezione dei civili è un obbligo del diritto internazionale umanitario e l'OMS Europa, in collaborazione con ONU, UNICEF e OXE, conferma di voler fornire il necessario supporto su questioni sanitarie urgenti, chiedendo che vengano rispettati gli obblighi internazionali per proteggere i bambini da pericoli e assicurare che gli attori umanitari possano intervenire anche in teatro di guerra. Comparto Cosmes in continua crescita, più 10% di fatturato nel 2021 rispetto al 2020. Anche per il 2022 si stimano incrementi del 6,5%, migliorato anche l'export. Sull'analisi dei dati per il 2022 però incomono varie incognite, dall'aumento dei costi delle materie prime a quelli energetici, insieme alla crisi geopolitica russa e ucraina che mettono in discussione la situazione economica attuale. Ha sottolineato l'Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetica Italia, un settore che ha comunque dimostrato negli ultimi tempi la grande capacità di riprendersi e superare la crisi economica. Via libera da parte dell'EMA alla vaccinazione con Moderna per la fascia d'età 6-11 anni e alla dose booster con Pfizer agli over 12. L'ente regolatorio europeo che si occuperà di inviare alla Commissione Europea il monitoraggio delle vaccinazioni e degli effetti, garantendo così la sicurezza e l'efficacia del vaccino nei bambini e negli adulti. Relativamente alla dose booster, infine l'EMA ha specificato che per capire se effettuare la dose aggiuntiva bisognerà tenere conto dell'andamento dei contagi e delle varianti. Confermati dall'Assemblea di Eguaglia, l'Associazione dei produttori di farmaci equivalenti, tutti i vertici associativi. A guidare l'associazione sarà ancora una volta Enrique Osterman, confermato alla Presidenza. Lo affiancheranno in Consiglio di Presidenza nel ruolo di Vicepresidenti, Hubert Puetsch, da Lissac, in rappresentanza delle grandi aziende, Cinzia Falasco Volpin, per le medie aziende e Davide Businelli, per le piccole aziende. Questa era la nostra ultima notizia per oggi, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento con una nuova edizione del Telegiornale.